Buonasera a tutti, siamo qui all'associazione culturale SPAS La Stanza, dove oggi si inaugura un'importante mostra, una mostra di una giovanissima artista, Cornelia Lochman, che stasera è qui con noi per raccontarci, insomma, come sei arrivata qui, di cosa parlano le tue opere. Ok, sì, sono di Bolzano, ho vissuto 8 anni a Berlino, l'anno scorso sono tornata e, sì, ho l'appartamento qua in Via Orazio e ho saputo tramite una vicina che c'è questo concorso. Allora sono scesa e ho portato un piccolo quadro qua e per fortuna, sorpresa, ho vinto. Sì, questo è il premio, è la mostra. Perfetto, e come si intitola la mostra? La mostra si intitola Jupiter o Giove, sì, perché mi piaceva tanto il suono di questo planeta, e il nome di questo planeta e mi serviva un po' come mantra per le ultime opere. E quante sono le opere che esponi in queste settimane a venire? Sono 23 in tutto. Tutta pittura? Tutta pittura e disegno, sì. Cosa racconto? Beh, quello forse è una domanda troppo facile da spiegare. Innanzitutto non è un racconto come uno verbale, no? Più emotivo, no? Se un'opera è riuscita, sono stupita e non so di cosa parla. È il fascino e con il tempo mi posso trovare delle spiegazioni, ma voglio lasciarlo al pubblico, al visitatore. Ok, e il concorso, diciamolo, che hai vinto, grazie al quale sei arrivata qui, è Espace Young, che inizierà tra pochissimo, oltretutto ci sarà il nuovo anno, il nuovo concorso. Facciamo un in bocca al lupo ai ragazzi che come te parteciperanno. Ok, in bocca al lupo ai ragazzi come me. Grazie mille. Grazie mille.